ragazzi buongiorno e benvenuti in una nuova puntata del let's play di dark souls 3 il gioco lo abbiamo finito il dlc lo abbiamo finito siamo arrivati al livello 115 quelle lì sono le statistiche abbiamo utilizzato principalmente la spada di lotrick però abbiamo dimenticato un po di cose che oggi andiamo a prendere e in più ho trovato un youtuber ragazzi che proprio non è cosa sua giocare ai souls è assolutamente inguardabile quindi dopo vediamo un attimo un paio di clip e poi dopo vediamo come bisogna affrontare bene le cose detto tutto ciò lasciamo i capito di sotto in descrizione ringraziamo herald e michele che ci hanno fatto notare un sacco di roba e andiamo avanti primo item che possiamo accanto al falò e ci dirigiamo verso i diaconi delle profondità perché ragazzi io questa cosa qua non le riesco a capire però in dark souls 3 dopo che uccide uno se ci ritorni non dopo che l'hai ucciso immediatamente ci devi ritornare o poi devi uscire devi rientrare ci sta la roba da prendere quindi se uccidete i diaconi e non tornate come ho fatto io trovate la roba che lasciano per terra ragazzi qua voi tra l'altro cioè quelli mi devono spiegare quando arrivi al diacono questo qua è un vicolo cieco quindi non ci torni più un'altra volta è impossibile che ci devi tornare e perciò ci hanno messo il loot qua tra le altre cose in questo preciso momento il gioco è finito abbiamo finito il dlc questi qua sono rimasti qua sotto tipo per un anno dall'ultima volta che abbiamo registrato la puntata fortunatamente non se li ha rubati nessuno questo qua è il primo pezzo pezzo successivo questa volta dobbiamo andare in un posto bellissimo a irriti della valle boreale e tra le altre cose dopo faccio alcune il pezzo che abbiamo mancato qua è molto più difficile ragazzi però questo qua è ancora più impossibile qua è come se fosse che tu uccidi uno a milano è quello di lasciare la roba a palermo così comunque questa è il ritual naturalmente è bellissima se avete completato la quest di sydris avete aiutato sydris proprio su questo ponte a uccidere kraton mi sembra che si chiamasse e avete completato la quest di sydris tornando qui trovate esattamente sul proprio sul ponte il set di la maschera di kraton però questo qua è il set di kraton non so perché lo chiamano di mirra forse si era rubato da mirra qualcosa del genere naturalmente dovete il momento in cui potete prendere questa roba qui se vi ricordate andando nella chiesa che sta più avanti che sta più sopra nel cortile della chiesa kraton vi invade e dopo che lo uccidete venite a prendere il la roba qua ma possiamo andare anche diritto da questa parte così ammiriamo di nuovo i riti che è bellissima ragazzi questo passo è incredibile ma il gioco incredibile tra le altre cose ci sono un sacco di diramazioni che non la faccio vedere questa cosa qua non era programmata però visto che ci siamo naturalmente ragazzi ci sono tutti i spoiler qui dentro questo è l'ultimo è il video dopo la fine del let's play slash run guidata ci sono un sacco di diramazioni questa qua non era calcolata però la vediamo un secondo perché qualcuno mi aveva chiesto così rispondiamo anche a questa domanda come faccio a evocare gli npc naturalmente bisogna avere la braccia attiva e le braci le trovate qua dentro qua bisogna fare così a fare usa adesso non ce lo fa fare perché già abbiamo utilizzata se hai la braccia attiva poi evocare gli npc in questo caso qui ci sono tre npc uno che sta diritto che è quello la più fesso di tutti uno che sta a destra che è andrea è fortissima i ragazzi contro contro salivano qua è proprio è incredibilmente forte bisogna prenderla per forza e poi ci sta l'ombra lieve di london lì a sinistra che quando abbiamo fatto registrato il let's play visto che in live quando abbiamo fatto le prove avevamo sempre utilizzato quella sinistra prendiamo quella al centro anche bisogna prenderla per forza quella sinistra però non esce se non avete aiutato avete eseguito la quest di julia e in più se evocate quello a sinistra e avete questo alimentario qua e avete almeno cinque simboli oscuri il tizio a sinistra vi dà anche un emoto io questa cosa qua non la sapevo e non lo evocate perché sono un cretino però detto tutto ciò giusto per farvi spiegare per farvi vedere le diramazioni che si possono prendere in tutte le questi sono delle queste che sono incredibili come la prossima che andiamo a vedere vediamo un altro indietro alfalo pure l'archivia grazie questo gioco è bellissimo se state vedendo questo video e non l'avete giocato e avete giocato già il der ring ve lo consiglio caldamente non giocare a dark souls secondo me dopo il der ring questo qui bisogna giocare letto confermato e sottoscritto però poi questa è una cosa soggettiva ognuno fa più o meno come vuole lui adesso viene la parte più difficile anche perché non mi ricordo manco i tasti dobbiamo andare esattamente all'armatura dell'ammazzadraghi mi sembra ragazzi abbiamo tagliato perché mi hanno dimenticato la strada comunque arrivati alla armatura dell'ammazzadraghi andiamo verso l'archivio e qui troviamo i resti di un altro tizio questo è ancora peggio ragazzi questo è come se non lo so abbiamo ucciso uno a new york è l'amico di questo qua è andato ha lasciato il corpo in thailandia e stiamo parlando di orbeck l'ascensore sta già qua tra le altre cose ragazzi a un certo punto julia vi chiede pure di ucciderlo a orbeck e quindi se uccidete a orbeck vi da quello che andiamo a prendere adesso perché adesso andiamo dove si trova il cadavere di orbeck però poi dopo non potete finire la quest di orbeck per poter trovare il cadavere di orbeck qua bisogna finire la quest di orbeck bisogna comprare tutte le magie da orbeck e bisogna avere ucciso il principe di lotrik ok qua stiamo all'archivio centrale ci sono un sacco di ceroni speriamo che mi ricordo come si fa a combattere perché i ragazzi sono un po arrugginito vediamo un attimo cerone chi è già non ha preso se pigliate la cina mi raccomando e ops ma cerone incredibile mo ce dovrebbero stare tre qua sotto dove sta usano una non di permettere se siamo veloci ragazzi forse riusciamo a fare però sono tre in tutto il problema che quando si sono due ci buttano la scena non la dobbiamo prendere 4 non mi permettete no 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 fermo cosi curiamoci non facciamo scemenze due li dobbiamo prendere la cena no la cena no ok via 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 questo qui è quello che succede quando uno cerca di rotolare mentre è incerato dunque ce ne sta ancora un altro vero? eccolo la dietro allora praticamente lo dovremmo distruggere ragazzi ecco qua tra l'altro vabbè dopo lo vediamo dopo lo vediamo ragazzi queste qua sono le ceneri di orbeck che adesso li portiamo un attimo all'artare del vincolo dicevo cioè noi abbiamo fatto la quest di orbeck abbiamo comprato tutto all'artare del vincolo di orbeck siamo andati dal principe e l'abbiamo evocato per aiutarci e dopo quello schiatta e lo dobbiamo andare a prendere i resti dentro all'archivio centrale ok benvenuti in dark soul street portiamo i ceneri alla tizia hai finito? ok ci dovrebbero aver dato un po' di frecce e anche dei pezzi del set però non mi ricordo esattamente quale e adesso ragazzi vediamo adesso stacchiamo un secondo vediamo un nabbo che ho trovato sulla scalinata di Anor Londo è una cosa assolutamente inguardabile ragazzi rieccoci e come vi ho detto prima abbiamo trovato questo nabbo che sta giocando a dark souls 3 vedete sta sulla scalinata di Anor Londo e vediamo un attimo come gioca questo è assolutamente inguardabile io non so come fa questo a fare lo youtuber è veramente incredibile si porta il cavaliere guardate quanto tempo ci vuole incomincia a rotolare per senza niente non c'è nessun reale motivo apparente per rotolare la prima volta poi rotola indietro per nessun reale motivo apparente lo riempie di mazzate così diecimila colpi una fatica incredibile per uccidere un soggetto buon bene vediamo il secondo forse si impegna di più ce la fa niente dentro lo scudo lo prende e si prende pure la mazzata questo è proprio scarso sta quasi per morire ragazzi mi raccomando non fate come a lui eh questo qua sta avendola meglio solamente perché c'è la spada buona altrimenti non è proprio opera luna tra poco muore è riuscito ci è riuscito proprio per puro miracolo naturalmente questi qua fanno il rispondo quindi è inutile che resistiamo vabbè poi prova pure a parlare da sopra però sorvoliamo sorvoliamo vediamo dove va ok decide di affrontare il terzo cavaliere questo è quello piuttosto tiene pure gli occhi rossi sembra davanti si è preso pure la mazzata ah è finito il fuoco cioè secondo me muore rotola rotola a destra e sinistra tipo clown proprio colpisce a vuoto non lo sa nemmeno lui che cosa deve fare è quasi morto un'altra volta scarsissimo proprio senza limitismo ci è riuscito proprio per il rotto della cuffia ragazzi noi ci vediamo giusto tra un secondo che vi faccio vedere in modo corretto per affrontare questi soggetti ragazzi eccoci siamo sulla scaninata di anor londo e adesso vediamo come fare correttamente questi tre tizi la prima cosa da fare naturalmente ci dobbiamo tirare a questo perché se no si porta subito al secondo e questa cosa qui l'abbiamo imparata non in elder ring non in dark souls 3 ma in dark souls 1 si può fare anche nel der ring se lo prendiamo da dietro possiamo fare il criticozzo e poi lo diamo adesso siamo troppo forti quindi due colpi lo diamo però normalmente penso che un criticozzo più due colpi dovrebbe essere più che sufficiente questo male non si vuole muovere naturalmente non combattiamo sulle scale e qua senza fare tutte quelle mosse strane kung fu karate e cose del genere basta prenderlo da dietro e farci un super criticozzo andiamo a fare pure il terzo adesso che ci siamo tra l'altro questo qua questo qua teniamo gli occhi rossi perché forse è più forte non lo so perché li teniamo gli occhi rossi e qua ah forse è più forte vabbè un colpo normale glielo diamo ragazzi detto tutto ciò la puntata finisce qui credo che per dark souls 3 non ci vedremo più probabilmente ci vediamo a giugno con il dlc di elder ring e in più in questi due o tre mesi che ci separano dal dlc ci saranno due forse se ce la faccio tre sorprese sul canale io vi ringrazio come al solito se lasciate un like aiutate tantissimo il canale soprattutto se il video vi è piaciuto vi è stato aiuto che mi sono dimenticato di dirlo però questa cosa qui ragazzi la devo dire sempre inizio della puntata non alla fine noi ci vediamo nella prossima puntata con il let's play di un altro gioco che sarà una sorpresa ciao 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 ciao